ciao ragazzi allora eccomi di nuovo qua sulla renat house mobile come potete vediamo fateci caso c'ho ancora la sdraio perché sono tornato da poco dalle ferie sono un po pigro non ho voglia di toglierlo però comunque dovrò farlo è piena di sabbia ma vabbè veniamo a noi quindi io volevo riprendere il discorso del mio precedente video con il quale parlavo della mia fastidiosissima perdita di segnale del mio dji mavic mini ma veramente un problemone quindi l'ho provato in tutti i modi l'ho provato in trasmissione manuale l'ho provato in automatica 5 2,4 5,8 ho provato con le antenne ho provato cambiare posti località niente non c'era verso continue perdite di segnale quindi di conseguenza video del cavolo nel senso non del cavolo che comunque erano tagliati ed alla fine quando in fase di montaggio devi rimetterli insieme perdita di tempo eccetera vabbè quindi rientrato dalla sardegna ho cominciato a consultarmi con amici e colleghi e però ho cominciato a focalizzare la mia attenzione verso il telefono e però tutti escludevano anche su youtube mi sono arrivati dei messaggi che escludevano totalmente categoricamente il telefono potesse essere il telefono dicendomi che il drone si interfaccia solo con il radiocomando il telefono non c'entra nulla e vabbè io non me ne intendo molto prendevo per buona però avevo sempre questa pulce del del telefono e tutti comunque mi dicevano a porta in assistenza problema del drone io non ho sti problemi eccetera eccetera vabbè quindi cosa ho fatto l'ho riprovato ancora qui ma peggio di prima ancora a 10 metri addirittura le disconnessioni quindi ho deciso di portarlo alla dji dji come l'hanno visto subito si sono focalizzati su questa cosa qua questo è il telecomando su questa porta micro usb dicendomi che era un problema molto diffuso del dji mavic mini che si si sfondava facilmente si disassava facilmente anche quando inserisci il connettore se lo inserisci dalla parte sbagliata che forse un attimino si può disassare perché le microsaldature sono sono delicate si rompono facilmente si può sfondare ma e quindi continuano a dirmi vedi che questo è disassato che ci sono i micro connettori qua danneggiati la parte destra per se lo vedi lo vedi e alla fine io dicevo va beh sì è vero è vero ma anche se sinceramente io non vedevo quello che vedeva lui però vabbè lo vedevo talmente convinto di quello che diceva che ho preso per buona questa sua insomma ne saprà più lui di me sicuramente e tra l'altro mi faceva vedere anche tanti telecomandi gli stessi che aveva lì in assistenza per lo stesso problema ma robe micro usb sfondate tutte storte mi diceva vedi qua non lo so ho detto ma tutto c'è anche se uno ci va in maniera delicata rischia di romperlo quindi è una cosa un po scadente come materiale vabbè però nello stesso momento mi chiedevo ma se è così diffuso sto problema di questa micro sb ma perché nessuno ne parla su youtube va vabbè comunque va spiegato tutta la tiritera della spedizione 120 150 euros avrebbero mandato in ma avrebbero sostituito la micro usb va bene ok però allo stesso tempo mi consigliava di rivolgermi al negozio in cui dove l'ho comprato che è la media dicendomi che probabilmente loro potevano anche sostituirlo subito così d'emblè ma avevo un po i miei dubbi infatti ho avuto la conferma perché poi la media mi diceva che i tempi sono lunghi mi conveniva farlo online con dj ai assist amm hanno consigliato è però l'avrebbero preso anche loro in assistenza però con tempi piuttosto lunghi va bene quindi nello stesso momento però venivo a conoscenza dell'esistenza di un centro di riparazione assistenza droni qui vicino a casa mia a basilio e tra l'altro ne parlavano molto molto bene tant'è che sono andato su internet se volete c'è il link in descrizione se volete trovarlo ho chiamato e ho avuto subito un'ottima impressione di proprio di competenza e professionalità tant'è che ho deciso di portarlo l'11 settembre a pomeriggio l'ho portato subito lui ha guardato mi ha detto questa non è non è la micro usb assolutamente questa è perfetta non ha nessuna anomalia va bene l'ha provata ha provato insieme vedi ha provato col suo di filo va benissimo questa non è quindi mi ha detto di lasciarlo di lasciarlo lì che l'avrebbe provato l'avrebbe testato col suo telefono che è un iphone eccetera tra l'altro gli ho chiesto ma potrebbe essere il telefono ha detto potrebbe anche essere il telefono cosa che tutti avevano escluso passa il weekend lunedì ci sentiamo e mi dà questa conferma l'ho provato riprovato nessuna anomalia va benissimo nessuna disconnessione l'ho provato a svariata alteste distanze va benissimo e quindi sono andato a ritirarlo e mi ha confermato comunque cioè mi ha confermato potrebbe essere il telefono provalo anche tu con un altro telefono e nello stesso nello stesso giorno cioè ieri quando ho parlato al telefono è venuto fuori anche il rebelot del rebelot dell'aggiornamento dell'applicazione quindi che la 1.1.8 causava grossissimi problemi dice non usatelo non volate fate l'aggiornamento 1.1.9 però questo aggiornamento ieri che era il 14 c'era solo per il sistema operativo iOS non Android e a tutt'oggi che è il 15 non c'è ancora questo aggiornamento ma il ragazzo dell'assistenza ha escluso anche questa questa ipotesi dalla dell'applicazione che non era quella va bene quindi prendo il drone lo riporto a casa lo provo con un redmi note 8 e ragazzi nessuna anomalia l'ho mandato ad altezze svariate distanze tutte le distanze proprio ho filmato mai 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 nessuna disconnessione ok quindi ho fatto la prova l'ulteriore prova del 9 diciamo l'ho fatto atterrare ho tolto il redmi note 8 ho messo il mio huawei p20 pro subito appena eh pac subito disconnessione ho fatto partire il video si disconnetteva eccetera quindi ragazzi il problema della disconnessione del mio dji mavic mini è dovuta al telefono il mio telefono è un huawei p20 pro che premetto che l'anno scorso quando ho acquistato l'osmo pocket inizialmente mi aveva dato dei piccoli problemi tant'è che alla dji non risultava in elenco come compatibile con l'osmo pocket il mio huawei p20 pro c'erano tutti gli altri huawei il 10 il mate eccetera ma il huawei p20 pro non c'era quindi vabbè dopo con gli aggiornamenti è andato a posto e l'osmo pocket ha cominciato a funzionare benissimo però col drone la causa della mia disconnessione devo dire per certo che è dovuta al mio telefono al huawei p20 pro no come modello non posso dirlo perché io ho provato solo il mio il mio telefono da questi problemi poi non so se proprio è il modello del telefono questo dovete dirmelo voi se qualcuno ha il huawei p20 pro e ha di questi problemi probabilmente è dovuto al modello del telefono però io adesso mi sento di escluderla il mio pro sono contento che ho trovato la causa potevo trovarla prima che in sardegna aveva fatto dei filmati veramente migliori tutti continuativi senza interruzione va beh pazienza però l'importante aver trovato la causa la causa mia era proprio il telefono e quindi ci avevo azzeccato già dall'inizio ok va bene ragazzi adesso a e quindi se avessi mandato il telefono in assistenza con la dji cosa succedeva la me l'avrebbero testato avrebbero trovato che il problema era huawei p20 pro boh l'avrebbero testato con con un iphone quindi mi avrebbero cambiato la porta usb ritornava e si ripresentava lo solito problema di disconnessione con mio telefono non lo so meno male che non ho provato a farlo va bene sono contento così quindi ragazzi il centro quel centro di assistenza mi ha fatto veramente un'ottima impressione se avete bisogno chiaramente chi è fuori milano chi è lontano è un po scomodo però qua milano e provincia è veramente un ottimo secondo me è un ottimo punto di riferimento perché tra l'altro anche pezzi originali della dji e vende anche droni ok va bene ragazzi vi saluto vi invito a mettere un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima ok ciao ciao da Renataus ciao